Ciao a tutti sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. In questo video voglio farvi vedere come ho realizzato la copertina di quaderno personalizzata per il mio figlio che ha iniziato l'università e che mi ha chiesto di personalizzare questo quadernone e così ne approfitto anche per farvi vedere un po' come muoversi all'interno del sito di Creative Fabrica per cercare le cose perché essendoci milioni di risorse digitali a volte può sembrare difficile trovare, un po' complicato trovare quello che si cerca quindi bisogna mettere dei filtri in modo da arrivare più velocemente a quello che si vuole e oggi approfitto di questo progetto per farvi vedere come. Allora dunque intanto vi ricordo di attivare l'abbonamento di un mese a un dollaro che vi permetterà di scaricare tutte le risorse digitali del sito comprese di Vicenza, non perdetevi questa occasione perché è veramente una cosa che vi aprirà tantissime porte e vi farà conoscere bene questo sito, vi consiglio vivamente di farlo. Nella descrizione del video trovate il link per entrare con il mio codice sconto che vi permetterà di avere questa offerta. Allora torniamo a noi, mi ha chiesto di mettere un leone in copertina quindi io cosa faccio? Vado direttamente qui nella ricerca e scrivo Lion come prima diciamo scelta ok in modo da iniziare a selezionare quello di cui ho bisogno. Dopodiché vedete che qui ha messo Lion a fianco alla lentina e qua sotto ci sono tutta una serie di possibilità che vi permettono di filtrare ulteriormente quello che vi serve. Allora visto che lui vuole un semplice la foto appunto del leone io metterei un logo perché penso che quello che mi ha fatto vedere lui ieri era una cosa del genere quindi lo trovo qua però vi faccio un esempio allora tolgo logo metto illustrazione così avete un'idea vedete che qua abbiamo delle illustrazioni che si possono stampare con la stampante per esempio se invece metto craft e tolgo illustrazione vi fa vedere tutte le cose che si possono stampare direttamente col plotter a taglio perché sono tutte nere quindi questo vi permette nella diciamo selezione che avete fatto di leone di fare un'ulteriore selezione tramite dei filtri allora io metto icona perché dovrebbe essere qui quella di cui ho bisogno e andiamo a vedere allora vediamo un po' no scusate non icona ho sbagliato infatti dicevo ecco per esempio guardate icona perché non mi tornavano i conti queste sono tutte le iconcine con i leoni ma io in realtà ho bisogno del logo eccolo qua quindi tolgo icona così mi lascio solo i loghi e vado a vedere se trovo quello che mi aveva fatto vedere perché se non gli stampo eccolo qua se non gli stampo quello che vuole non mi usa più il quaderno questo è il logo che io dovrò andare a stampare con la mia cricut quindi cosa faccio allora intanto sotto vi faccio sempre vedere che vi da vi dice quello che che sono i formati quindi vi dice che questo è un formato vettoriale quindi editabile al cento per cento ve lo dà in eps come formato in ai come formato a me l'eps da aprire con cricut design space va bene e quindi posso scaricarlo ora io qua vedo download perché se lo fate anche voi ho tutto il sito scaricabile quindi non devo pagare nulla altrimenti qua ci sarebbe il prezzo del dell'immagine da scaricare io non pago niente cosa che non fate neanche voi se vi abbonate do download e lui vedete che cosa fa mi va a mettere all'interno della mia cartella download la cartella lion logo quindi io abbasso il mio creative fabbrica vado nella mia cartella qui c'è sempre il mio desktop da mettere a posto perché è pieno di roba ma vedrete che prima o poi lo troverete ordinato vado sui miei download e trovo la cartella lion logo zippata cosa faccio clicco con il tasto destro del mouse estrai tutto la faccio salvare me la salva nella stessa nello stesso posto nel mio caso voi se volete potete metterla da un'altra parte a questo punto io in questo punto qua vedete all'interno mi trovo i file che adesso volevo vedere come sono ok ci sono questi file che sono ai quindi per adobe illustrator e il file eps e questo no allora file jpeg file per illustrator e il file eps ok io posso usare il file jpeg che posso vedete se clicco due volte lo apro direttamente questo userò il file jpeg per per direttamente il mio design space quindi lascio il mio il mio disegno qui nella cartella tanto la andrò a prendere direttamente con con design space apro design space ci mette un pochino perché il mio pc è un poco lento ok ok faccio nuovo progetto aspetto un attimo che si apra bene perché se non se non mi fa vedere tutte le tutte le cartelle che ho già aperto e lo lancio subito rischio di ok quindi faccio nuovo progetto e cosa faccio allora vado a caricare il file che ho scaricato quindi faccio ingrandiamo così faccio carica in questo modo faccio carica immagine sfoglia potete trascinarlo direttamente ma io vi faccio vedere vado in download vado nella mia cartella lion template prendo il mio file jpeg e lo carico qui andiamo a cliccare su semplice in modo che perché i colori sono a contrasto ci sono solo due colori quindi sarà semplicissimo eliminare il colore che mi serve faccio continua e vado a rimuovere sulle aree dell'immagine che voglio eliminare quindi elimino il nero in questo modo e in questo modo a questo punto praticamente abbiamo il leone che è pronto per essere aperto con design space facciamo l'opzione clicchiamo sull'opzione taglia immagine perché dovrò tagliarlo direttamente e lo vado a caricare a questo punto il mio leone nel nelle mie immagini inserisci immagini e ho il leone da ritagliare con la mia cricat a questo punto cosa faccio vado a mettere nella dimensione giusta che ho già visto essere un 16 in larghezza ho lasciato il il lucchetto chiuso così me lo ingrandisce in maniera proporzionale e adesso non devo fare nient'altro che aggiungere una scritta perché mi ha chiesto una scritta quindi scriviamo memento ok e facciamo un zoom così si vede tutto meglio un po troppo ok così e questo memento lo andiamo a centrare qui con la scritta quindi mettiamo centra e a questo punto guardate per metterlo io lo devo abbassare per metterla per mantenerla in linea in modo che non si sposti dal centro con il tasto shift del mouse premuto la sposto e lei rimane perfettamente allineata guardate vedete quindi l'abbasso e la metto qua questa scritta devo fare ancora una cosa lui mi ha chiesto un font specifico che è un font brooklyn che io ho scaricato sempre dal sito creative fabbrica come scaricare il font ve l'ho fatto vedere in un altro video quindi io per per fare questo questo lavoro ho utilizzato due risorse di creative fabbrica la risorsa immagine con il leone e la risorsa font per scrivere memento quindi cliccato sulla sulla scritta vado nel font vado su sistema perché è un font del mio sistema e qui troverò il mio brooklyn sono in ordine alfabetico quindi eccolo quasi non lo vedevo eccolo questo è il font brooklyn ecco quindi a questo punto vedete che non va bene perché è un font che mi ha cambiato la scritta quindi devo rifare quello che ho fatto prima diciamo che l'ho fatto un po troppo velocemente quindi cosa faccio allora intanto per vedere bene la scritta gli cambio il colore poi prendo la scritta e la vado a mettere nella parte più larga del leone e la modifico affinché abbia la stessa larghezza ora la prendo con lo shift clicco anche il leone e gli vado a dire di centrarlo in modo che sia perfettamente al centro dopodiché prendo solo la scritta e con il tasto shift della tastiera premuto lo vado a spostare lo faccio tornare nero ok e a questo punto faccio salva scrivo Lorenzo che è il nome di mio figlio visto così lo salvo col suo nome e non lo dimentichiamo e poi lo vado a mettere su personale e faccio salva ok a questo punto io procederò con il tagliare il questo progetto con la mia cricata e andrò a finire il mio quadernone e questo video l'ho realizzato per farvi vedere appunto come trovare un'immagine e e come appunto fare un lavoro semplicemente scaricando due risorse vi ricordo sempre che i fonte sono molto cari ma voi avete a disposizione se fate l'abbonamento tutte le risorse che vorrete quindi potete veramente realizzare quello che che più vi aggrada detto questo non mi resta che come al solito augurarvi tanta creatività a questo punto io procedo con il tagliare il mio il mio lavoro con la cricata e vado a completare il mio il mio quaderno questo è un video per farvi vedere iniziare a farvi vedere come trovare le immagini che vi servono su creati in fabbrica e come appunto vi può servire più di una risorsa per creare un lavoro anche solo semplice come questo visto che ho utilizzato sia un'immagine che che un font e quindi vi consiglio di attivare l'abbonamento così potrete veramente realizzare tutto quello che vi passa per la testa detto questo come al solito non mi resta che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo video un abbraccio e alla prossima settimana un bacione ciao ciao